... Arriacy, vi vorrei rari tutti i nostri ritornati! Ian! Non ce ne vede. Non c'è l'acqua. Non c'è il Cabinet. E' un genere che in questo lato. Cosa è la terapia. Non c'è il Primo. Ma la terapia non c'è il strato. L'olio è ilghia. Trattata un'altra terapia. Cosa un bel giorno? No. Non so. Grazie a tutti.